auguri francesco auguri per i tuoi 40 anni sinceri dal profondo del cuore io ti ho comprato la delorean la macchina del tempo così potrai scegliere quello che fare se tornare indietro se andare nel futuro tutto quello che tu desideri per me ma avete fatto un culo così addossandomi la responsabilità di tutti siete i primi a scrivere mentre io non lo dico neanche ora che questo sarà il suo siete voi che lo volete far smettere quello è un altro discorso che non ti riguarda quello riguarda me io lo uso e il risultato dell'anno scorso ha fatto vedere che quello che l'ho gestito nella maniera giusta ora si vedrà quest'anno però a me me lo dice lui in base a come viene in base a quelle che sono le intenzioni nei confronti della roma e dei risultati della roma perché a lui non gli do niente ma stai sicuro che non gli toglierò niente lui mi da un centimetro gli ridò un centimetro lui mi da un metro gli ridò un metro lui mi da metà campo io gli ridò metà campo perché l'ultima partita andiamo a vedere San Paolo facciamogli vedere il vulcano perché è l'ultima volta che ha la tuta della roma che può vedere il vulcano tutti deve giocare se si merita di giocare anche il prossimo anno siccome è la tua festa però poi io volevo pensare alla tua splendida signora e ho comprato un piccolo pensiero anche per lei che è un vecchissimo pezzo di mia Martini un grandissimo successo al quale io ero molto attaccato e lei mi ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia mia Martini piccolo uomo questo per Ilari questo per Francesco auguri buongiorno vi presento Biancanevi la mia paperina vero? buongiorno vi presento